Intervenire solamente su Viale Scalabrini vorrebbe dire non avere per il futuro una soluzione precisa e adeguata per un'intera area. Fermatevi a riflettere. È questo l'invito che Italia Nostra rivolge al sindaco Poletto e all'intera giunta comunale bassanese all'indomani della decisione di abbattere i platani di Viale Scalabrini. Una scelta non condivisa dagli ambientalisti che suggeriscono al comune di non limitarsi a valutare la soluzione adatta ad una singola strada cittadina ma progettare un'area più vasta che comprenda anche via Colbacchini, il parcheggio del cimitero di Santissima Trinità e l'area della chiesa e poi Angarano, il brolo di Palazzo Bonauguro, il ponte e le sue sponde. Per mostrare gli effetti del possibile taglio delle piante Italia Nostra ha realizzato anche una simulazione fotografica. Ecco come apparirebbe Viale Scalabrini senza i platani. Ma quella di Viale Scalabrini è solo l'ultima delle polemiche esplose in città per la tutela del verde? Italia Nostra lamenta infatti anche la scelta della loro amministrazione Cimatti di tagliare i platani di Viale Montegrappa e le piante di Viale Venezia. Lo fa solo oggi però fuori tempo massimo e allora viene spontaneo chiedersi dove fosse fino a ieri chi oggi si erge a paladino dell'ambiente.